Questa settimana al Consiglio Europeo è stato anche raggiunto l'accordo sul Next Generation EU, sul bilancio europeo superando i veti di Polonia e Ungheria. È un fatto molto importante perché dà il via libera a questo grande piano da 750 miliardi di investimenti per rilanciare l'economia europea. È da questo che dipende il nostro futuro in termini di rilancio dell'economia dopo la pandemia ma anche di transizione ecologica e di transizione digitale delle nostre economie e delle nostre società. È per questo che sarà importante anche per l'Italia riuscire a gestire al meglio queste risorse perché dal loro utilizzo dipende il nostro futuro. Se avremo successo, se riusciremo a recuperare il gap con gli altri paesi europei in termini di produttività, di competitività, di crescita economica e di occupazione. Un'occasione straordinaria e da non perdere da cui dipende il futuro di tutto il nostro paese.